Quando vuoi. Monte Sant'Angelo abbiamo presentato il manifesto con dieci impegni concreti per enti locali e regioni per prevenire e contrastare l'infiltrazione mafiosa a partire dalla cultura e dall'educazione. Dieci impegni che nascono dall'esperienza del Comune di Monte Sant'Angelo, ma dalla rete di avviso pubblico e dalle tante buone pratiche che abbiamo censito in questi anni. Organizzare la legalità sul territorio, facendo rete, costruendo un patto con tutte le realtà associative del mondo scolastico. Promuovere la buona amministrazione, sviluppare buona amministrazione e soprattutto formare funzionari e amministratori per sviluppare un contrasto efficace. Sostenere percorsi di educazione nelle scuole e far sì che i progetti giovani respirino di attenzione e sensibilità sul tema del contrasto a mafia e corruzione. E poi cercare di valorizzare la memoria, quindi sia celebrando le ricorrenze, sia facendo sì che i nostri territori abbiano nella toponomastica, nei nomi di piazze, luoghi e parchi, i segni e la testimonianza delle vittime innocenti di mafia. E poi valorizzare i beni confiscati, che sono il simbolo della vittoria della legalità contro mafia e corruzione. E infine cercare di favorire legami tra nord e sud, tra paesi e realtà diverse della nostra Italia. Le mafie sono un fenomeno che caratterizza tutto il nostro paese, cerchiamo di organizzarci e unirsi a partire dalla cultura per prevenire infiltrazione mafiosa.